musica 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 perché stai scaricando pagliacci tu stai guardando dei pagliacci al computer perché io sto facendo il remix che stiamo facendo insieme e tu guardi i pagliacci ti giro, ti giro rompe la minchia e poi guardi i pagliacci sta curando la tua nuova immagine ah certo l'immagine coordinata cos'è l'immagine coordinata? praticamente tutti e tre ci facciamo delle foto e poi scegliamo un'unica linea diciamo un'idea di base che contraddistingua tutti gli scatti adesso perché l'immagine che esco dalle fiamme dell'inferno allora adesso tu dimmi che l'immagine che esco dalle... ve la faccio vedere questa adesso tu dimmi che io che esco dalle immagini questa tu dimmi adesso che io esco dall'inferno dopo un mese di 320 telefonate al giorno lui no però qua devi mettere arriva finalmente l'immagine di Paolo Neuss aspetta prima sulla quale noi dovremmo fare poi le nostre immagini allora c'è lui avvolto nelle fiamme generate dal buttame sofferente cioè un uomo che ha al circo una scorreggia di Gollum in una storia dovremmo essere tipo gli Avengers allora lui c'ha la faccia mezza robotica quell'altro che spalano soli minchia con l'alito ho fatto quanta mila scatti io non li ho mai vinciti ma perchè non ce l'ha consegnata Diego Linciano che è il fotografo in gloria della radio bastardo ci ha fatto gratis gentilmente degli scatti gratis proprio in amicizia gratis andiamo per una Marlboro Light mezza mezza Marlboro Light lui giustamente due minuti dopo gli scatti oddio ma però sono puttana gli scatti che cazzo ma perchè lui voleva una cosa facile no lui voleva uno scatto qui a nove braccia a nove braccia aspetta c'ho il video guardiamo il video mentre abbiamo fatto gli scatti a nove braccia avete visto sono dei professionisti questo è l'immagine coordinata uno straccio bianco dietro ho buttato un amore DELICIONE DEVI tre rapiti ora mi scattano dagli ragazzi avete capito? immagine coordinata e poi e poi tu scarichi le foto dei pagliacci guarda che più bella quella lì della tua che ti trasformi oh si dovremmo fare tre pagliacci così ciao